Ciao tesori e bentornati nel mio mondo! Il video di oggi è in collaborazione con Bittersweet Paris che mi ha gentilmente inviato tre dei suoi bellissimi prodotti. Non mi aspettavo una qualità così alta, onestamente, quindi sono rimasta super sorpresa. In questo video vi farò vedere due delle feppe che ho ricevuto mentre la t-shirt ve la faccio vedere nel prossimo completo l'outfit da me. È bellissima, ha una stampa fantastica su! Io adoro le magliette con le stampe, ne utilizzo tantissime, infatti c'è una mia collega di lavoro che mi fa sempre complimenti per le maglie che indosso. Perché non so, mi piace che le t-shirt, le felpe, trasmettano un po' quello che mi piace oppure un messaggio in particolare, quindi adoro le felpe e le maglie con su disegni o frasi. Adesso indosso questa, bellissima! Altra cosa che dovete sapere è che io sono strafissata con il lupo. Cioè questo fin da piccola, calcolate che di cognome porto lupo, quindi non so se è stata una cosa indotta, ma comunque mi sento molto molto legata a questo animale. Soprattutto adesso che mi sento un lupo solitario, sì. E quindi ho scelto questa e un'altra da abbinare a quello che andrò a realizzare in questo video. Mia mamma che mi chiama sempre quando faccio video. Ma come fa a saperlo? Andate a sprucciare il sito, mi raccomando, e qualora vogliate acquistare qualcosa come regalo di Natale o per voi stessi potete utilizzare il codice sconto ANGENIA15 per avere il 15% di sconto su qualsiasi prodotto nel sito. Comunque, da abbinare a questa felpa, ho deciso di realizzare un anello con il volto di un lupo, ispirandomi a una delle felpe che ho scelto, che non è quella che indosso adesso, ma è questa qui. Guardate che bella e i colori sono brillantissimi, sono ancora più brillanti dal vivo di come li state vedendo voi dal video. E sul retro ha la stessa immagine. È stupenda e stupendo abbinosa. La smesso di bladerare e vi lascio al tutorial. Dunque, dunque, per questo tutorial mi sono autosfidata a non utilizzare attrezzi con la punta in silicone, ma ad utilizzare solo questi che ho preso dal sito di Re Bimbi, della Green Stuff, in metallo. Tantissimi artisti me li hanno sempre consigliati, io li ho sempre snobbati, ovviamente sbagliando, come sempre. Dunque, inizio con la base del mio anello, che ho ricoperto con della pasta polimerica color carne, ma potete utilizzare tranquillamente della pasta di scarto, anche perché poi andrà tutto dipinto di nero. Spoiler! Ho poi trovato questi occhietti, non facciamo caso al pelo di ciccio, perché i peli di ciccio ormai sono ovunque. Questi occhietti, dicevo, sono perfetti per il lupo. Forse un po' troppo grandi per l'anello, però alla fine ho risolto. Questa cosa rimpicciolando sempre di più le palpebre. Diciamo che però la pupilla sarebbe dovuta essere un po' più piccola, ma non fa niente. Allora, vado ad utilizzare questo strumentino che da oggi in poi mi vedrete utilizzare sempre. Appena preso c'era qualcosa che non andava sulla punta, e infatti quel pezzettino in più non faceva parte della punta, assolutamente. e l'ho tolto con un taglierino, quindi qualora capitasse anche a voi, mi raccomando, toglietelo, perché altrimenti l'attrezzo non funziona come dovrebbe. Una volta tolto quel pezzettino, appunto, ho aggiunto sulla palpebra e ho iniziato a dargli forma. Sempre e solo con questo attrezzo gli davo forma e contemporaneamente gli davo anche la texture. Questo è stato molto carino e ho notato che gli attrezzi in ferro rispetto a stuzzicadenti, attrezzi in silicone, non lo so, è come se comandassero la pasta rispetto agli altri. Ecco, se con l'attrezzo in silicone mi viene in mente una storia d'amore reciproco, l'attrezzo in ferro invece dice alla pasta, tu fai così, tu vai qui e la pasta lo fa. Ecco, è una cosa più servo padrone con l'attrezzo in ferro. Come spiego io le cose, nessuno comunque. Allora, ho poi bagnato l'attrezzino nell'olio Johnson che mi aiuta ad amalgamare meglio la pasta. L'attrezzo, anche questo in ferro, scivola molto meglio sulla pasta e la texture viene meglio, a mio parere. Poi principalmente lo utilizzo l'olio per amalgamare le parti senza fare troppa fatica. Vado poi a delineare il musino del mio lupetto, come vedete a livello di modellazione non c'è tantissimo. Basta solo inserire pezzo dopo pezzo. Qui ad esempio sto formando la fronte, però poi più là andrò a infoltire anche un po' le guance. Io preferisco, poi ognuno ha il suo metodo di modellazione, io preferisco sempre aggiungere anziché togliere. Adesso vado a fare l'orecchietto sempre con l'attrezzino in ferro, è stato fantastico. Anche questo qua con questa punta piatta funziona molto bene per amalgamare la pasta. E sempre con questo attrezzino qui, che è diverso da pungolo, ragazzi, non voglio tradire pungolo, però la forma che ha effettivamente studiata, ha un senso, si vede che è studiata per queste cose. Quindi mi sono trovata veramente bene. Sono andata anche a realizzare i peletti all'interno dell'orecchio. Poi vado ad aggiungere la fronte per dare più profondità allo sguardo e qui, in questa fase, modello guardandolo molto di profilo. Perché quella è la cosa importante quando andate ad aggiungere questo pezzo, che teniate ben presente il profilo del lupo. Anche qui poi sto aggiungendo la texture e man mano che aggiungo la texture vado poi a modificare, rimpicciolire, allungare varie parti. Sto provando una texture molto più leggera, con peli diciamo molto più sottili. E l'attrezzino ha funzionato davvero bene. Calcolate che qui non ho utilizzato nemmeno l'olio Johnson. Ho fatto anche l'interno dell'occhio, perché il lupo ce l'ha molto 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 marcato. Poi qui vado a fare il nasino, semplicemente facendo dei buchi e allargando, buchi allargando e poi con i polpastrelli aggiusto la forma. Non delineo tantissimo il naso, perché tanto poi ci sta la texture dei peli già a delinearlo. Con questo attrezzino qui a spatolina vado a creare quella che è la mascella del lupo sotto. E anche questo ha funzionato molto molto bene. Ed eccolo qui il mio lupetto. Come vedete ho infoltito tantissimo le guanciotte al lato, portandomle anche al lato dell'anello. Dunque, adesso con l'acrilico valleio nero vado a ricoprire di nero tutto 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 il lupetto. Ovviamente quando arriverò agli occhi utilizzerò un pennellino di precisione, perché veramente ogni parte del lupo deve essere nera. E dall'immagine ho notato che l'interno dell'occhio del lupo, cioè il bordo della palpebra, è proprio nero. Adesso la parte più divertente, coloriamo. Questi sono tutti i colori che andrò ad utilizzare e utilizzerò un pennellino per nail art. Il primo colore che vado a stendere sul lupo è il blu scuro, per darmi la base di profondità, ma comunque andrò a riprenderlo. Poi vado a mettere i primi punti luce con il celeste. Questo esercizio mi è piaciuto tantissimo. Sì, aveva proprio delle belle luci, il lupo del disegno, ed è stato molto interessante da ricreare. Qui col pennello sporco vado a prendere un altro po' di blu per amalgamare i colori. Di solito quando devo amalgamarli non pulisco mai il pennello, anche quando devo prendere punti luce oppure le ombre. Poi li faccio asciugare un po' e quando devo andare ad intensificare, allora ci vado col pennello pulito, ma fino ad allora pennello sporco. Qui vado ad intensificare le ombre e ovviamente avevo asciugato un po' il colore di base, il pennello l'avevo pulito e avevo unito al blu un po' di nero. Poi faccio anche un po' il riflesso del naso e adesso vado ai bordi con l'arancione e il giallo. Per creare l'effetto luce al tramonto dietro al lupo. Questo mi è piaciuto tantissimo. Adesso utilizzerò un colore che mi piace da morire, questo metallizzato della Green Stuff che potete trovare sempre sulle bimbi. Guardate che bello questo colore, è stupendo. Io lo chiamo luce pura, perché è veramente luce. Vi dà una luce caldissima. È metallizzato, ma non quel metallizzato che dà fastidio e che rende la creazione come se fosse di metallo. No, è un metallizzato che rende la brillantezza della luce, non l'effetto metallico. Quindi mi piace tantissimo. Come tocco finale per la luce, unisco a quel metallizzato della Green Stuff il bianco. E adesso vado a intensificare le luci. Ed ecco qui il mio anello lupo. Wow, è bellissimo! Oddio, non me lo aspettavo così bello dalle riprese. Ok, sì, mi piace tanto il risultato e non vedo l'ora di sapere voi cosa ne pensate. Oddio, questi occhi sembra quasi... stiano seguendo la fotocamera. Oh cielo, vabbè. Qui l'altra felpa che mi è stata inviata. La qualità è fantastica. Dentro sono felpati e la cosa più bella è che i colori sono brillantissimi. La stampa è in sublimatica, quindi non è plastificata né niente. Non andrà assolutamente a rovinarsi. E queste sono le nuvole sotto, bellissime. Cosa super carina, il prodotto viene realizzato al momento dell'ordine, quindi è realizzato proprio apposta per voi. E questo è il sito. Li trovate anche su Instagram e su Facebook. Ed ecco qui il mio outfit completo. Notare l'anello che sembra fatto apposta. E qui vi faccio vedere meglio il modello di felpa che ho scelto io. Guardate che bello c'è. Mi piace da morire quando calzano così le felpe. È perfetta e comodissima. Sì, sono davvero soddisfatta di aver fatto l'anello e non orecchini o altro. Perché già il disegno è abbastanza impegnativo. Infatti come vedete per il resto tutto molto semplice. E si abbina perfettamente anche la mia cover per cellulare. Adesso vi faccio vedere indossata anche l'altra. Eccola qui! Wow! È bellissima. Qui l'anello si azzecca ancora di più. Perché è fatto proprio seguendo questo disegno qui. Questo credo sia un modello un po' più regolare sul sito. Magari con la stessa immagine trovate appunto la felpa con la cerniera, la felpa senza cappuccio, la t-shirt. Ed io ho scelto vari modelli. Questa è la felpa un po' più regolare. Quella invece è quella che va un po' più... Vabbè, ormai lo sapete che la sovietà non mi appartiene. È bellissimo! No, comunque mi piace. Sono davvero contenta di averlo realizzato da me e di non aver preso quelli che si trovano sulle bancarelle di metallo. Perché non lo so, così ha... Ha un'anima. Ha la mia anima. Quindi se è posto. Poor real. Spero tantissimo che il tutorial vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Pareri sui attrezzini in ferro mi sono trovata davvero bene e vorrei averli utilizzati molto prima della mia carriera creativa. E niente, quindi fatemi sapere cosa ne pensate dell'abbinamento, delle felpe, dell'anello, se questo tutorial vi è stato d'aiuto. Ovviamente se decidete di rifarlo, fatemi vedere, taggatemi nelle foto, taggatemi ovunque. Così poi io riposterò i vostri lavori nelle mie stories o magari nei prossimi video. Vi ricordo il codice sconto a Genia15 per acquistare queste bellissime felpe. Ringrazio ancora lo shop per aver voluto collaborare con me. Vi ringrazio tantissimo per sostenermi e per seguirmi sempre. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!